C'è un'opera dell'Istituto, il libro dell'anno, che pur mantenendosi nell'alveo della tradizione di rigore scientifico e di eleganza della presentazione, pur se ne stacca in parte per il contenuto, per la presentazione e vorrei dire anche per la distribuzione commerciale. L'opera la più piccola dell'Istituto, per un verso, è per paradosso potenzialmente la più grande, perché esce una volta all'anno il volume verso quest'epoca dell'anno e si somma un volume per anno in una serie che può diventare infinita, piccolo quindi, ma con una potenzialità praticamente senza fine. Il libro dell'anno, dunque, si presenta in questa chiusura dell'anno il decimo quest'anno di una serie iniziata nel 2000 ed è però quest'anno identico nella sua presentazione formale a quella del primo giorno o della prima uscita. Diviso in tre parti, quella degli eventi, che sono le accadimenti dell'anno in una serie cronologica che va da novembre a novembre per potersi contenere nel periodo natalizio la sua presentazione, questi eventi sono scelti con rilevanza della importanza e però tuttavia con nessuna discrimine sul contenuto. Così ci sono gli eventi di politica, di arte, di storia, di letteratura e sono selezionati con un'ottica che va ingrandendosi ovviamente da quella del mondo a quella dell'Europa a quella dell'Italia. Così vediamo che per esempio nelle prime pagine dei mesi troviamo le facciate delle case dell'Aquila disastrate nel mese di aprile, una manifestazione degli operai per l'amianto in una società del milanese e poi l'arrivo schierato dei militari in attesa dei corpi dei caduti di Kabul. A fianco di questa sezione degli eventi c'è la sezione dei temi. Quest'anno a partire dall'astronomia, anno dedicato all'astronomia, si va fino ai trasporti, passando per le città di Barcellona, Bologna, il cuore, l'evoluzione e tante altre temi che vengono trattate da autori esterni di prestigio e di nome e che sono affiancati nella loro illustrazione da un articolo redazionale. Infine c'è una parte che riguarda i dati, quella delle nazioni del mondo. Quindi un'opera totalmente nuova che si pone anche in commercio in un modo nuovo, appunto in libreria. E noi riteniamo che questa collezione di mettere affiancato l'uno all'altro sia il valore aggiunto di quest'opera e riteniamo che dalla cronologia con questa sequenza di anni si possa passare alla storia.